di queste natalizie. Daremo ovviamente altri riconoscimenti che non posso anticipare perché come tradizio ci sono i premiati, però vorrei sottolineare questa iniziativa con Chiocotolo Ventura, l'Avvocato Quattiero Ventura, consigliere del Pontificio Consiglio del potesse arrivare un messaggio da parte del Capitale del Consiglio e per dire noi la Chiesa, la Chiesa sì è quella che è in conferenza stampa, anche un po' come lo specchio di quello che succederà a quei giorni, vero qui di nessuno, quando abbiamo chiesto a quei politici nell'allora Consiglio regionale più inquisito d'Italia, troppo trasversalmente, perché era una questione etica, non facevamo la selezione naturale dei migliori del Consiglio regionale, una regione dove l'Andangheta aveva gesto, però la politica non è neanche generalizzazione, la politica non è, sono tutti delinquenti, è un'espressione forte, fa cartello, giallo, ed è arrivato il tale che ci siamo messi d'accordo con il Presidente della Commissione Difesa, onorevole di questi riconoscimenti che portano appunto il nome del giudice Scopelli, sono a lui intitolati, sono delle menzioni speciali, una di queste idealmente la rivolge a utilizzare un'espressione che sento mia, sono ostaggio in questo momento di un Unite, insomma delle Nazioni Unite, ma che comunque forse diciamo a far valere insomma le ragioni, anche in questo caso delle norme, le norme internazionali e che tutti dobbiamo accettare perché siamo una comunità, noi siamo che come appunto tutte le loro famiglie che da ormai due anni.